ciao a tutti qui con me ho delle carte ciascuna rappresenta una bambolina voodoo diversa dall'altra diverse perché a ciascuna bambolina manca una diversa parte del corpo e le mettiamo tutte qui con me ho anche una bustina che contiene una predizione all'interno di questa bustina c'è un'altra carta con un'altra bambolina voodoo alla quale manca una parte del corpo non vi ho detto che tutte queste bamboline sono maledette e adesso ho bisogno di un volontario tra il pubblico che sia molto coraggioso il volontario dovrà scegliere una di queste bamboline se troverà quella con la stessa parte mancante che c'è sulla bambolina nella predizione sarà fortunato per tutta la vita perché le maledizioni delle due bamboline si annullano tra di loro in caso contrario non sarà per niente fortunato mi serve un volontario super coraggioso io vieni scegli una bambolina dimmi un numero 4 4 4 ok questa bambolina ha la parte mancante che è sulla pancia sei pronta a vedere si se corrisponde alla predizione brava sarai fortunata per tutto il resto della tua vita complimenti per il coraggio grazie